Intanto le do un aggiornamento sullo stato familiare. Quella coppia, Teresa e Letizia, ha avuto un'altra figlia, si chiama Elda, quindi Ernesto è un fratellino, e continuo a pensarla esattamente come al mio posto del 29 novembre, nel senso che credo che non possano esserci bambini di serie A e di serie B. Detto questo, l'Italia è un paese che al momento non ha una legge neanche sulle unioni civili. Noi pensiamo che sia arrivato il momento di mettere la parola fine a questo lungo rinvio costante che c'è stato, c'è stato anche tecnicamente nei fatti un ostruzionismo che non si è palesato in una manovra parlamentare, ma in un continuo ritardo e dunque di conseguenza, per quello che ci riguarda, noi siamo dell'idea che si debba chiudere e chiudere velocemente. C'è un piccolo inconveniente rispetto alle posizioni del PD, cioè che il PD, come senz'altro non le sfugge, non ha vinto le ultime elezioni e al Senato, ho fatto ieri una dimostrazione grafica, poi so che i giornalisti non amano le slide, quindi non mi permetterò di presentarle, ma una raffigurazione grafica in cui al Senato della Repubblica i senatori del PD sono 112, gli altri sono 208. Di conseguenza bisogna avere l'accordo di qualcun altro e non basta neanche un solo partito, occorrono altri partiti. Su questa linea c'era una prova di intesa con il Movimento 5 Stelle che mercoledì scorso, venti minuti prima di votare l'emendamento Marcucci si è tirato indietro, dopo aver detto voi nei sedi testimoni voteremo, 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 ha cambiato idea, ha cambiato posizione, si dice che cambiare idea sia segno di intelligenza, in Italia c'è un proverbio che dice questo, allora quelli dei 5 Stelle sono dei geni assoluti perché hanno cambiato idea in modo costante, oggi il problema che noi abbiamo, sul quale sono molto preoccupato, è che non si vada avanti da nessuna parte, cioè che questo dibattito sia bloccato come è accaduto in passato e quindi di conseguenza ieri ho detto io che sia la strada di un emendamento del governo che fino a questo momento è rimasto fuori dalla discussione, o che sia la strada di un accordo parlamentare c'è soltanto una cosa su cui noi dobbiamo dare certezza, cioè che questa legge si faccia davvero e si faccia senza che la strategia del rinvio colpisca ancora, quindi vediamo cosa accadrà domani alla riunione del gruppo, io spero che nell'arco di qualche giorno si possa chiudere la partita al Senato, giorno del dibattito parlamentare e poi andare alla Camera a provare velocemente, non si tratta quindi di concedere qualcosa agli altri, si tratta di prendere atto che bisogna arrivare a 161 voti, siamo a 112, ne mancano 50, 49 e nel momento in cui si tirano indietro via via gli altri con qualcuno questo accordo va fatto. Grazie. Grazie.